Ok, approccio di giorno, miti su approccio di giorno vado velocissimo, non si può approcciare di giorno, c'è qualcuno che crede questa cosa? Dopo avermi visto 63 volte di fila farlo con successo in cinque giorni? E' una prova sufficiente? Yes. Ma il barista che sta lì dice che un po' non ti riconosce e dice ma questo che cacchio fate tutto il gioco, devi cambiare comunque questo tipo di posto. No, l'altro ieri il tipo arriva perché la ragazza va in bagno e mi dice, guarda che tu hai più appuntamenti in un mese di quanti io ce ne ho mai avuto in tutta la mia vita, te ne rendi conto? Il barista. Sì, il barista. Oppure succede qualcos'altro, dovete stare attenti al locale che selezionate perché qualche trebbe avvelenarvi il drink, sospetto di essere stato avvelenato da barista. Questa è storia vera fra l'altro, però sì potenzialmente è meglio se li cambiate un po' i locali nei quali andate, ci sono delle caratteristiche specifiche che il locale deve avere per fare un appuntamento corretto, però se un po' li cambiate è meglio perché iniziano a guardarvi strano dopo un po'. C'è un barista anche nella piazza, nel negozio. Barista. Se approcci di gioco in una strada ci saranno degli esercizi con bracciali, un bar, una panineria, ci sarà la connessa che dice, guarda questo, ha fermato la prima, la stessa tipa che hai fermato magari va a fare una commissione e torna indietro. E' una possibilità. E' una possibilità. E' una possibilità. E' lì numeri. Diventa molto difficile ai ragazzi, effettivamente, se la ragazza ha visto approcciare un secondo fa, concludere, perché capisce che lo fate con tutte. Cosa che io non vi sprono per nulla a fare, ci mancherebbe altro. E' viettatissimo, uscite di qua e non approcciate. Però è un rischio concreto fondamentalmente, può capitare, però è un gioco che va alla candela. Ha senso? Disturbo la ragazza. E' vero o non è vero, ragazzi? Se voi non piacete alla ragazza e se non avete neanche quel minimo di skills, calibrazione, eccetera, eccetera, per far sì che la ragazza effettivamente reagisca in maniera positiva, quantomeno per una breve conversazione, in questo caso la state disturbando. Ma al tempo stesso, nel caso sia interessata, non la state disturbando. L'approccio di giorno, ragazzi, non deve essere un qualcosa di considerato come qualcosa che non è. Cioè, non è una panacea per tutti i mali, però è un qualcosa che dà la possibilità di conoscere ragazze, uscirci fuori, farci sesso, entrare se volete in una relazione, eccetera, 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 in maniera molto molto consistente. Quindi ci sono delle cose che io non vi posso levare, tipo, se mi vedono, si vi vedono, molto probabilmente vi vedono. Disturbo la ragazza. È una possibilità, ci sono ragazze interessate e le disturbate in quel caso. Penseranno che sono un morto di fica. Questo francamente è il più difficile in assoluto, nel senso che se voi effettivamente fate l'approccio in maniera corretta possono essere interessate, possono essere interessate, però difficilmente pensano che siete un morto di fica perché sanno che avete le skills minime per fare questa cosa. Ora, chiariamo una cosa. L'approccio di giorno, ovviamente, non è l'approccio che di più fa schizzare in alto quello che è il vostro valore. Qualcuno mi sa dire il perché? Perché non lo fa nessuno. No, in realtà questa è una cosa positiva. Vendi tantino. Infatti, la donna ti vede come sicuro di te. No, 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 mi sono espresso male allora. L'approccio di giorno non è il qualcosa che vi fa sembrare come più di valore possibile, più in alto nella scala di valore. Qualcuno mi sa dire il perché di questa cosa? Per poter essere uguali in forza? Perché abbi in ambienti generici? No. Se sono in alto nella scala di valore, uno presume che ho già tante conoscenze di tira, ma bisogna di conoscenze del fatto. È la cosa più vicina a tutte, a quella che è la risposta corretta. Non sembra premeritato. Perché è una cosa... No, no, no. La risposta più vicina in realtà ce l'ha data lui. Nel senso che, voi ce lo vedete Brad Pitt, George Clooney, eccetera, 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 approcciare il giorno? Sì, no. No, no, no. Oddio, potrebbero anche farlo, nel senso che una botta talmente tanto a colpo sicuro va lì, gli molla il bigliettino alla visita e questa apre le gambe. Veramente non sto scherzando. Però, in realtà... Se non fossero famosi, prenderebbero o no. Loro hanno tante qualità tutte unite, oltre ad essere famosi. Cioè hanno aspetto, soldi... Carisma. Sì. Se fossero dei comuni mortali... Però possono prendere o no anche loro, eh. Chiariamo questa cosa. Però... Però... In ogni caso, anche se non vi pone a livello standard, ci sono ragazze che vi potrebbero considerare coraggiosi e quindi questo fa innalzare il vostro valore ai loro occhi. È una cosa statistica, ragazzi. Alcuni lo possono considerare positivo, altri negativo. O meglio, alcune e altre. Però... In ogni caso, se fatto nella maniera corretta, dimostra una quantità e qualità di skills che non vi fa pensare, o meglio, non fa pensare alla ragazza che siete un morto di fica. Perché un morto di fica non ha le abilità, la capacità, eccetera, eccetera, per fare una cosa del genere. Anche solo stoppare la ragazza per strada è un qualcosa che il ragionier filini non può fare. Ok? Il ragionier filini. Oddio, magari si può provare e beccarsi un merdaccia, però... Se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo. Uno, iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti. Il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione. Due, in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step. E tre, purtroppo, ai links in descrizione non trovi tutti i corsi. Alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter. E rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.